Musica Allora siamo qui nello stand di Amor Pan, vicino a me abbiamo il signor Stefano Passannante, titolare dell'Amor Pan Lei da dove viene dall'Italia? Io attualmente abito a Pisa, sono originario però di Varese, nord di Milano Ok, quando nasce la sua azienda e come nasce? Allora Amor Pan nasce nel 2011, grazie alla volontà mia, del mio socio Gianluca Morsilli e ci siamo messi in gioco per mettere a disposizione del cliente tutto il nostro sapere Noi è da 25 anni e più che siamo nel mondo della panificazione e della pasticceria e Amor Pan è il risultato di questi 25 anni di passione che abbiamo per questo mondo Oggi in una fiera all'estero, come è il rapporto con lei, con i consumatori che vivono all'estero? Oggi è la prima occasione che abbiamo, grazie a Tascani Gourmet, di far vedere i nostri prodotti all'estero e siamo venuti in Germania perché è un mercato che per il cibo è notoriamente molto aperto per il cibo italiano Anche lei si è unito al progetto di Guido Mondi Cosa è stata la cosa interessante che gli ha fatto decidere di far parte? La cosa più interessante è stata quella che sono dei ristoranti italiani autentici e consumano, utilizzano prodotti veramente italiani non il parmesan che arriva dalla Spagna piuttosto che la mozzarella che arriva dall'Australia La mozzarella che trovate nei ristoranti è italiana e tutto quanto quello che consumate nei ristoranti della catena è italiano Oggi sono passati qui già alcuni visitatori, sono stati più tedeschi o italiani? Direi in egual parte, sia italiani che vivono e lavorano qui ma molti tedeschi che si approcciano al cibo italiano perché è universalmente riconosciuto che il cibo italiano è per fortuna uno dei migliori al mondo Giusto, ma ci vuole spiegare che prodotti ha portato oggi qui alla fiera? Sì, abbiamo portato due dei nostri cavalli di battaglia Uno si chiama Floriana, la focaccia toscana È una focaccia toscana, tipicamente toscana con il 5% di olio extravergine di oliva questo lo vogliamo dire In tutte le nostre produzioni usiamo il lievito naturale o il lievito madre che caratterizza in termini di sapore, di profumo e di gusto tutti i nostri prodotti e questa Floriana ci sta dando delle belle soddisfazioni Vedo che lì già avete la colomba che presto, fra qualche mese, avremo tutti sulla tavola Sì, infatti abbiamo voluto portare anche questo ci siamo anche specializzati nella produzione di prodotti da ricorrenza panettoni e colombe, quasi per gioco è stata una richiesta fatta da un nostro cliente che ha apprezzato le nostre colombe e ci stiamo ritagliando una bella nicchia ci sta dando delle soddisfazioni non da poco Allora, gli faccio un in bocca al lupo e buon lavoro Grazie, arrivederci a tutti Arrivederci